ciao cancro da gold di unicorn art allora andiamo a vedere che tu sia cancro ascendente cancro luna o venere in cancro andiamo a vedere qual è la tua sorpresa che sorpresa ti sta aspettando oppure che sorpresa tu aspetti da tempo e magari arriva andiamo ad incominciare con la prima carta che guardiamo un po la tua situazione e poi naturalmente aggiungeremo altre carte allora vediamo un po allora qui caro cancro a te piace andare molto in profondità come il tuo pianeta la luna che va molto nell'inconscio qui c'è qualcosa che si sta smuovendo dentro di te e che probabilmente verrà alla luce e quindi c'è qualcosa che ti sta tormentando ultimamente quindi andiamo un po a prendere questi tarocchi vediamo un po che cosa mi vogliono dire allora vediamo un po carissimo cancro perché dalle cose che in questo momento non ti piacciono non ti stanno andando bene può anche sorgere una grande luce infatti questa carta vedi è tutta scura ma c'è anche la luce quindi vuol dire che la soluzione c'è sempre allora vediamo qui confermano che sei in un momento un po difficile adesso che stai guardando questo video è perché quando capiti qui questo è un video senza tempo quindi qui io chiedo qual è la sorpresa per te dicono che stai vivendo in questo momento che capiti qui un momento un po di destabilizzazione qui col matto anche però il matto è anche tanta energia vediamo la carta successiva al mazzo allora qui avrai una grande vittoria perché come vedi succede qualcosa questa carta è anche dominata da giove che anche il pianeta della fortuna dal sole quindi tutto si schiarisce vedi che ti dicevo che qualcosa che ti ha tormentato negli ultimi tempi si risolve proprio per te andiamo a vedere molte persone possono aver avuto una situazione sia potrebbe essere chi sta guardando o una situazione di lavoro intricata oppure una situazione d'amore un po difficile molti possono aver avuto un allontanamento quindi si sono sentiti soli cancro ti sei sentito un po solo ma ricordati che la luce arriva sempre tu sei proprio benedetto aiutato del cielo con questa temperanza è quindi hai messo tanta energia in qualcosa o verso qualcuno e adesso tu avrai il tuo riscatto diciamo è comunque perché vedi che qui parlano proprio di amore quindi qui arriva l'amore per te dopo tanta sofferenza e quindi questo mi viene già da dirti è la base per il tuo per la tua sorpresa però secondo me queste carte dicono anche che tu avrai una risoluzione una vittoria perché comunque questa è una carta di vittoria quindi avrai anche una risoluzione se hai per esempio delle pene di lavoro è quindi mettiamoci un po queste carte vediamo un po che cosa ti vogliono dire allora la via luminosa quindi in sostanza è che tu porti veramente luce perché ti accade qualcosa qui ti accade proprio qualcosa dove tu a un certo punto porti luce su questa cosa che ti ha addormentato probabilmente su questa situazione con una persona quindi se tu segui il tuo cuore e cosa senti in questo momento mi viene da dire cosa senti verso questa situazione o verso questa persona a cui stai pensando perché qui guarda che ti troverai subito sopra dice questa carta cioè raccoglierai vedi com'è così come rappresentata raccoglierai della luce c'è proprio la luce del sole che ti arriva nelle mani no quindi mi viene da dire proprio che tutto si schiarisce mettiamoci un po questi altri tarocchi qui per vedere cosa ti succede qual è esattamente più precisamente la tua sorpresa tanto ritrovi la grinta mi viene da dire ritrovi la tua grinta che non sempre è evidente per te del cancro perché alle volte ti perdi un po troppo nelle emozioni o nei pensieri pensi troppo al tuo passato hai pensato troppo a una situazione ti sei sentito solo un po abbandonato da una situazione pesante e quindi ti sei anche un po arrabbiato però io vedo che appunto la risoluzione la luce che viene a te è quindi ancora delle difficoltà e cavolo qui è proprio vissuto qualcosa che ti ha lasciato molto molto turbato caro cancro è per fortuna che qui sono venute appunto sia questa carta oracolare che ti dice che la luce d'altronde era incominciata questa stesa con l'ombra e la temperanza che ti dicono stai tranquillo che poi va tutto a posto va tutto bene però non parlano adesso di risoluzione d'amore più che altro parlano di te parlano di te che forse hai dato troppa importanza a una persona o a una situazione che tu sai quello che hai vissuto qualcosa che comunque si rimargina perché effettivamente tu ti senti di nuovo leggero quindi ti senti di nuovo nella pace ti senti di nuovo che puoi voltare le spalle a questa situazione che ti ha fatto tanto soffrire che ti sta facendo soffrire da tempo perché hai voglia di nuovo di amare amare la vita amare il mondo amare questa situazione oppure lasciare andare questa situazione per amare quello che hai davanti quindi qui proprio l'energia a un certo punto da questa pesantezza cambia diventa leggera se stai aspettando l'amore qui arriva l'amore se invece stai aspettando per esempio un contratto di lavoro o una situazione che si risolve qui si risolve bene e c'è anche qualcuno che ti aiuta qui quindi carissimo cancro io direi che c'è a questo punto prendo un messaggio per te perché secondo me in questo momento che tu stai guardando questa stesa ne hai bisogno qui parlano proprio di una risoluzione ma non ti dicono per esempio qui adesso tu avrai una storia d'amore non lo dicono in questo momento perché ho girato molte carte quindi qui ti dicono semplicemente che il tuo stato d'animo cambia che sarai aiutato che sarai benedetto dal cielo che finalmente sarai di nuovo pronto o pronta a rivivere tante belle situazioni della tua vita che vedrai di nuovo appunto il sole ecco e che qualcuno ti starà molto vicino potrebbe anche essere l'amore però andiamo un po' a vedere l'energia qui come cambia qui dice che tutto quello che ti è accaduto doveva accadere perché è stato un passaggio simile alla nascita è come se tu avessi una rinascita ecco perché spesso questi sono gli oracoli diciamo dei fratelli della luce quindi ti dicono che spesso gli esseri umani della terra hanno dimenticato la propria essenza e tu in questo ultimo periodo hai dimenticato la tua essenza quindi hai avuto un po' paura però adesso tu stai proprio per cambiare la tua energia qui è quindi ti voglio prendere visto che era venuto l'angelo della temperanza adesso anche una carta di Uriel perché voglio darti questo bel messaggio che è appunto la tua nuova sorpresa la tua nuova vita la tua nuova rinascita e questa la tua sorpresa attesa uno dice ma la sorpresa deve essere sempre un fatto ma certo che i fatti seguiranno anche perché qui il fatto è che viene qualcuno in tuo aiuto anzi vengono due persone diciamo una è una persona incarnata e un'altra una persona disincarnata tu sentirai di nuovo la melodia della vita ti dice Uriel perché veramente andrai avanti e riuscirai anche ad avere ciò che tu vuoi quindi stai pensando all'amore e probabilmente quest'amore verrà stai pensando all'amore e probabilmente questo lavoro verrà perché tu avevi bisogno di imparare una lezione però riconoscerai veramente il tuo cammino saprai esattamente che cosa fare quindi tu che sei così sensibile io vedo che riuscirai a trovare nuove soluzioni proprio alla questione che ti ha fatto tanto soffrire per molti di voi vi dicevo appunto la questione può essere lavorativa per molti di amore quindi può essere che questa persona che ti viene incontro ma io sento che questa è una persona che ti aiuta più che quello che sento che arriva e ti aiuta proprio a sentirti di nuovo nella gioia qui quindi questa persona ti dà una benedizione fortissima l'energia di questa persona ti dà una benedizione fortissima poi naturalmente ci sono anche gli angeli però la bella sorpresa di questa stesa secondo me adesso ci voglio mettere ancora delle carte ma la bella sorpresa di questa stesa secondo me è proprio la tua leggerezza che sentirai presto vai a sentire magari anche il tuo ascendente però vedi che comunque incombe ancora secondo me tu avrai potrai avere ancora delle prove però se stai pensando all'amore ecco che qui secondo me è proprio una persona che arriva se stai pensando all'amore guarda che la che cambiando tu la tua energia cambi lo specchio del mondo dell'universo qui questa persona arriva con una coppa per te quindi qui qualcosa si risolve anche nei sentimenti però la mia sensazione è che tu caro cancro prima di tutto risolvi qualcosa di te stesso che ti stai portando un po dietro ecco e quindi secondo me tu non sarai come dire un po vittima le volte diventi non sarai più vittima di te stesso perché ti sentirai veramente molto bene e qui come vedi arriva anche la persona che ti offre la coppa perché perché se tu sei aperto tranquillo e rilassato anche le energie cambiano per te quindi qui la bella sorpresa è proprio la tua gioia che che sta per per nascere per rinascere qui lo spirito della rana ti dice che metterai ordine nella tua vita soprattutto in tutto questo groviglio di pensieri che hai avuto nel tuo passato è tu avevi bisogno adesso di stare un po solo un po con te stesso perché è stato un momento molto importante nella tua vita almeno da questo momento che guardi questa stesa perché la vera sorpresa qui è che tu incarnerai la pace poi l'amore o le situazioni lavorative quelle che aspetti saranno una conseguenza quindi carissimi e carissime io vi ringrazio dell'ascolto e passo al segno successivo ciao a tutti un abbraccio grazie a tutti